Bentornati! Ciao! Ciao Sara! Oggi Sara è al settimo cielo perché abbiamo preso una LOL Surprise, Air Ghost e Wave 2 e hanno tutti i capelli veri, cambiano tutti i colore. Perché ai papà le LOL piacciono tantissimo! Non è vero? Allora qua c'è lo specchietto, la prima cosa è lo specchietto, l'indizio, questo è quello che troveremo, gli adesivi, un divanetto, due bigodini con dentro in uno la spazzolina, in un altro il biberon, poi un accessorio, poi l'involucro, il vestito, scarpine e poi la nostra LOL. Bene, da che parte cominciamo? Ah, questa è l'ultra rara, sempre. Questo è l'abbiamo preso oggi perché Sara è andata a fare la visita pulistica, adesso ha le pupille belle dilatate, però siccome sono fastidiosa, va sì, dai prendiamo un pensierino per la visita medica che ha fatto. Record! Sei riuscita a aprirla bene? Chi è che non riesce mai a aprirla bene? Glitter! Bene, allora questa è... Allora... Ah, una cosa, ricordatevi che è plastica, va nella plastica, riciclaggio, non buttatevi. Lei è una LOL, un'altra LOL. Dai! E qui c'è un'altra cerniera. Dovrebbero migliorare le aperture perché... Dai! Guarda, questa nemmeno io riesco! Posso intervenire io se vuole? No! Beh, vedo che con la violenza si ottiene tutto. Benissimo! Ah, è bella la confezione, sembra il TARDIS del Dottor V. Guarda, allora, qua c'è un disco che non serve più. Ok, questo cosa? Non serve. Allora, questo è il libretto delle istruzioni che ovviamente non serve. Questi sono gli adesivi. Vediamoli, falli vedere. Adesivi! Questo è lo specchietto per fare i selfie con i glitter. Ah, dai? Veramente? È vero! E come si chiama? Ah, ma ci sono... Missy Bun! Ecco, non so se qualcuno l'ha già fatto, ma noi facciamo il filmato con i glitter. Missy... Ok. Missy Bunny! Missy Bunny! Missy Bunny? Missy Bunny! Quindi è una coniglietta? No, c'entra? Ops! Ah, guarda che ha forma di spray questo! Ah, non l'avevo capito! Aspetta! È a forma di bomboletta spray! Questo è il primo indizio. Perché è il spray! C'è scritto anche! Sveglio papà oggi, eh! Alla grande proprio! Cos'è? Qualche sono i piedini per mettere la nostra LOL? E facciamo... Dove è finita? Facciamoli vedere. Bello! E questo è il gancetto per portare la nostra LOL sempre con noi. E guarda che si tratta di capelli, quindi questa è una bomboletta e questa è una molletta. Ma questo si toglie? Ma questo si toglie? Aspetta! Aspetta! E questa è una molletta! Ah, riguarda tutti i capelli! Wow! E guarda! Ah! E questo è il salottino! Aspetta che devo prendere sotto... Eh, ma c'è tutto! Wow! Sei spertissima, Sara! Non sapevo tutta questa competenza in LOL! Poi, apriamo questo dopo... Questo... Vediamo... Aspetta! Prima guardiamo la checklist, però... Guardiamo la checklist... Non roviniamoci la sorpresa, quindi mettiamo da parte tutto e... E' un po' curioso anch'io di vedere se c'è la checklist... Eh, se ti piace il tappetino! Visto che bello il tappetino che abbiamo preso! Che è tutto glitterato! Questa è una foto... Allora... Allora... Facciamo vedere... E' un semplice, poggialo qua così... Tengo io, tu indica! Allora... Questa... Carina... Carina, mi piace, molto bella... Carina anche quella... Bella... Brutta... Bella... Questa la voglio, voglio anche lui... Carina... Questa non mi piace per niente... Questa è molto bella... Questa è molto bella... Questa pure... Questa pure... E questa pure... Ah, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10? Allora... Tutte... Mi piacciono molto tutte... Ma tranne questa... Ma sono divise anche qui in rare comuni... Allora comuni e... Alle azzurre... Poi c'è... Non riesco a leggere... Aspetta, scusa... Allora... Le azzurre sono regular... Cioè... Questa è regular... Questa è regular... Questo è regular... Questa è regular... E... Rare... Questa è rara... Questa è rara... E basta... E basta... Ultra rare... Questa e questa... Super ultra rare... Questa... E basta... Basta, sono solo 10... Sì, va bene... Vediamo... Cosa abbiamo... Non... Non sbirciare... No, io sbircio... Tu non sbirciare... Io voglio sbirciare... Non riesco a non sbirciare... Allora lì... Tiriamo prima fuori tutti... Anche la LOL... Ad la forma si può capire... Aspetta... E i bigodini? I bigodini... Li apriamo subito... Ah, ricordatevi... Di iscrivervi al canale... Qua sotto c'è il tasto iscriviti... E questi... Se prendete questi qua... E li potete usare per i vostri capelli... Se usate solo questa parte... Ah... E iscrivetevi al canale... Schiacciate la campanella... Se volete essere aggiornati... Commentate... Mettete like... E condividete... Oh no... Ha aperto il bigodino con il biberon... E quindi? Il resto lo scopriamo... No, no... Dù non lo scoprirai mai... Lo scoprirò io... No, non c'è scritto nessun niente qua... Di biberon... Lo so... Lo so... No... 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 A te lui la c'è lì... Dammi la c'è lì... Ho quasi fatto un terremoto terribile... Che crollava tutto... Allora... Potrebbe essere lei... Potrebbe essere lei... No... No... Lei no... Eh... Dai colori... Potrebbe essere lei... Potrebbe essere lei... Sì... O potrebbe essere lei... Ah... Dici? Ma... Vabbè... Poi... Vabbè... Allora... Ma che disatto... Ma dentro il bigodino non c'è nient'altro in questo? Ah sì... C'è la spazzolina... La spazzolina che ci indica qualcosa di più gialla... Quindi potrebbe essere bionda? È piccolissima... No... 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 Non c'è la spazzolina ma cosa c'è sulla spazzolina un fiocchetta? Non ci dice niente... No... Sono tutte uguali... Ah... Sono tutte uguali... E non sono esperto di rollo... Questa qui è sempre plastica... Non riciclate... Non riciclate... Riciclate... Sì... Qui dentro c'è questo... Che è una... Cos'è? Non sbirciare... Non sbirciare... No... Ma io sbircio... No... Fai? No... Non sbirci... Vi ho trovato... Bigodini... Una confezione di latte... Con scritto... Missing... Perché è scomparso un gatto... Su Missing... Con la foto di un gatto... Immagine di un gatto scomparso... Dammi la checklist... No... La mia checklist... No... Dammi la checklist... E adesso come faccio senza checklist... Io non vivo senza checklist... La tiene la mamma la checklist... Me l'ha rubata... Allora... Poi... Quella cos'è? Vediamo... Faccelo vedere... Faccio inquadrare io... Dai... Ma dai... Una cintura... Una cintura... È una fascia... Una fascia... Va bene... Perlata... Perlata... E questo? Wow... Cos'è? Un vestitino... Da... Acrobata... Qualcosa del genere... Non guardare... Da acrobata... Qualcosa del genere... E poi? Un ballerino... Sì... Più o meno... Minuscola le scarpe... Perché le lollano dei piedi grandi... Quanto... Un granello di riso... E quindi qui c'è... La... Scarpina col fiocchettino... Poi... Questa l'abbiamo aperta... E io sono in tensione... Vogliamo aprire quell'ultima... Cos'è? Una roba minuscola... Cos'è? Cos'è? Un lacetto... Dei polsini... Cosa sono? Sono tre polsini... Tre polsini... E mi sa che è rimasto solo da dire... Ah intanto vi faccio vedere... Che ha riposizionato all'interno... I due bigodini... I bigodini... E possiamo utilizzare questo ovviamente... Come scatola per portare in giro... La nostra lol... Agganciando... Intanto che aggancio qui... Tu se vuoi puoi già cominciare ad aprire... Ne hanno messo uno in più... Non doveva esserci... Non doveva esserci il terzo... Abbiamo un braccialetto di scorta... Eh vabbè... Va sempre comodo... Intanto vi faccio vedere... Che agganciando le catenelle... Alla scatola... Potete portarvi in giro la bottina... Ma apriamo sta lol... Vediamo che cos'è... Vediamo... Faccio farlo qua davanti... Qui 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 qui... Così vediamo... Ha dei capelli veri... E' tutta azzurra... Perché è tutta azzurra... Aspetta... E' l'involucro... Ah ok... Sì... Però potresti metterla qui che la vediamo... Vediamo la svestizione... Come vi ho già detto... Questi li potete... Questi li potete riutilizzare... Che cosa? Questi... Li potete staccare e usare... Ah i pezzettini dell'involucro? Sì... E quindi... Abbiamo trovato questa qua... Che non era proprio tra le preferite... Ma è la... Splitz... Che è questa qua... Che è quella che fa... Ginnastica artistica... Giusto? Sì... Bene... Fala vedere... Adesso vediamo se riusciamo a... Lei è una cambio colore... Cioè? Se la mettete in freezer... Cambia colore... Che cosa cambia colore? Il corpo... Non devi vestirla... Ah... E di che colore diventa? Scusa... E non lo so... Non te lo dice... Ci vuole tanto? Prova andare a mettere in freezer un minuto... Dai corri... Intanto io vi faccio vedere la checklist... Facciamo una cosa al volo... Vediamo se per caso si raffredda sufficientemente... In maniera veloce... Queste sono quelle che avremmo potute trovare... Bello fare la recensione da solo... Piccola Sara se n'è andata... Nel frattempo abbiamo cambiato un pochettino location... Come vedete c'è un po' di disordine sul fondo... Perché questa è la schivania di Sara... Quindi io vi ricordo comunque... Tutte le parti in plastica... Buttatele nella plastica... Se ci sono parti in carta... Come questa... Che non potete tenerle tutte... Se ne avete più di una... Le buttate nella carta... Ricordatevi... È importante... Utilizzeremo questo filtro... Per glitter... Piccola Sara... Vieni qua intanto che si raffredda... Cosa? Intanto che si raffredda... Vieni qua... Ok... Allora... Volevo dirvi che... Noi abbiamo questi pennarelli... Che possono andare sul legno... Sulle cose lisce... Sul vetro... Ah sì... Su qualsiasi cosa... Lasciati qua che li prendiamo... Che con l'acqua... Spariscono... Quindi... Volevo fare questa cosa... Prendiamo il viola... Sì... Fallo però mentre sei inquadrata... Perché sennò... Aspetta... Sì... Solo che... È un po' difficile... Cosa fa? I colori? Vabbè... Diciamo che con questi pennarelli della Giotto sono i pennarelli indelebili che possono essere utilizzati per le superfici... Dico... Noi abbiamo... Noi io, mica troppo... La mamma e lei hanno dipinto l'armadio con vari tipi di bestie feroci e arcobaleni... E non vengono via... Quindi si possono utilizzare su tessuti, plastica, vetro... Usarli sulla carta è sprecato perché basta un pennarello è normalissimo... E... Sono carini... Sono carini per decorare però attenzione appunto perché sono indelebili... E poi abbiamo anche... Che cos'è che ha portato la mamma? Vogliamo metterlo... Facciamo questa cosa... Che puzza... È uno smalto... Avete portato uno smalto... Vediamolo... Che smalto è? Lo faccio vedere io... Guardate che bello che è lo smalto che hanno preso loro... Ed è un'ultra rara... È un'ultra rara hai trovato... Fantastico... A parte che io levo la smalto è l'ultra rara... Eh vabbè... Di prova sarebbe sotturato... Abbiamo questo super smalto ultra glitter... Guarda che bello... Fantastico... Possiamo ritirarci tutto il mondo... Tutto il mondo glitter... A me piace tantissimo la confezione... Che abbiamo visto che ha le porticine... Guardate... Che si aprono... Ma voi cosa fate quest'estate con questo caldo? Dove siete? Siete al mare? No in questo momento no... Bene se ho distrutto un seggiolino dell'agri... LOL... Ma quanto vi piacciono le LOL? E ai vostri genitori quanto piacciono? Vediamo che qui stanno all'opera... Stanno facendo una cosa... Stanno glitterando... Praticamente prendendo l'involucro di gomma... Quello che conteneva la LOL... L'avete presente? Quello azzurro... Con quello smalto... Adesso le mie mani gigantesche... Signora mamma... Metti... Eccolo qua... È difficile che è piccolissimo... Si possono glitterare... Le... 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 Le scarpine... O le altre parti che sono venute fuori... Adesso qui... E sono un accenno di colore... E poi... Eccola qua... Un'altra scarpina smaltata e glitterata... Eccola qua... Che carina... In realtà sarebbe per le unghie... Quindi se lo comprate... Sapete che è per le unghie... Potete mettere un po' sulle unghie... E un po' sui piedini... Ma adesso... Se qualcuno va a recuperare il freezer... Vediamo se ha cambiato colore... Cosa che dubito fortemente... Perché c'è stato troppo poco... Se non ha cambiato colore... Fa niente... Magari la facciamo vedere in un prossimo video... Quando faremo vedere un'altra... Faremo vedere come ha cambiato colore questa... Se non ha cambiato colore... Comunque... Già cominciamo a ringraziarvi... Per la vostra compagnia... Vediamo se ha cambiato colore... Ha cambiato colore... Urchè si ha cambiato colore... Ma tantissimo... Tantissimo ha cambiato colore... Siccome fa caldo... Sta tornando subito del colore naturale... Era... Multicolore... Wow... Guarda come torna come prima... E scaldandolo così... Torna subito del colore precedente... E volevo farvi vedere... Che c'ha il... Il trucco glitterato... Sì... E basta... L'abbiamo fatta tornare... Ah... Possiamo provare appoggiandogli del ghiaccio sopra... Per farvi vedere come torna... Guardate come si colora... Vabbè... Intanto io volevo far vedere una cosa... Sì... Che cosa... Ma veramente stavamo chiudendo il video... Comunque il corpo cambia colore... Il volto no... Ho visto... Giusto... Eccolo qua... Vediamo... Vedi... La prossima volta la facciamo vedere bella carica carica... Così abbiamo qualcosa da far vedere... Dicevamo ai nostri amici... Che ci vediamo... Aspetta... Aspetta 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 aspetta... Devo prendere una cosa... Che ci vediamo al prossimo... No... Video... E aspetta un attimo... Ti può decorare anche... Il pettinino... Ma lo so che si possono fare un sacco di cose con queste... Bellissime LOL... Bellissime... Allora voglio dirvi una cosa... Allora... Che cosa... Queste... Prendete questo... Prendete questo sopra... Lo mettete qua... Per portarvi la vostra LOL... Potete metterlo qua... Ah la potete poggiare qua sopra... E portare all'interno tutto quello che vi serve... Oppure... Aspetta che è ritornata la LOL colorata... Eccola qua... Eccola qui... È tutta colorata come se avessero spruzzato con dello spray... Pensate il calore che sta facendo... È tornata all'istante... Al colore naturale... Quindi... Vi salutiamo... Aspetta... E vi diamo appuntamento... Al prossimo video... Giusto? E ci vediamo alla prossima Sara? Sì! Ciao a tutti! Ciao!